Ciao Fragoline, nuovo video! Allora, come leggete dal titolo rispondo alle domande che mi avete fatto sotto nell'ultimo vlog e ho ricevuto tantissime domande, certi sono diciamo le stesse per cui risponderò solo una volta e poi mi hanno fatto una domanda che ricevo sempre sotto nei video su YouTube specialmente e voglio rispondere a questa domanda per l'ultima volta perché l'avevo già detto e voglio farvi capire, però comunque adesso vediamo. Allora, le domande, quelle che ovviamente le persone mi hanno fatto, volevo ringraziare prima di tutto le persone che mi hanno fatto le domande, per cui grazie che siete stati un bel po' a farmele. Allora, detto questo, dato che sono tante, rispondo e prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video quando escono. Seguirmi su Instagram, lasciare un like se vi piace questa tipologia di video, un commentino qua sotto se volete fare altre domande. Ovviamente volevo fare questo video per conoscermi meglio, perché così almeno mi conoscete meglio, per quelli che sono diciamo iscritti da poco o anche per quelli che sono iscritti da tanto ma non mi conoscono e voglio fare questo video in poche parole. Comunque iniziamo a rispondere alle domande. Me le avete fatte sia su Instagram che su YouTube, per cui io le ho messi diciamo insieme. La prima domanda, quale musica ascolti? Allora, io sinceramente ascolto tutte le musiche, ad esempio quelle tipo Fedez, poi adesso non mi vengono i nomi, come sempre. Comunque musica tipo romantica, un po' di tutto. Cioè, non sono una che... Musiche tutte, cioè come ad esempio i Rama, più o meno queste musiche qua ascolto. Per cui quasi tutte in poche parole, tranne mi sembra il rock. Quello non mi piace. Poi, guardi amici? Allora, no, non lo guardo. Lo guardavo prima, quando ero un po' più, diciamo, piccola, per modo di dire. Quando le prime puntate che avevano fatto, dove c'erano i cantanti proprio che cantavano bene e non come adesso. Per cui non lo guardo, ma lo guardavo prima, in poche parole. Poi, come hai fatto a crescere su YouTube? Allora, io ormai è quasi otto anni. Il mio canale fa quasi otto anni a luglio. Per cui da otto anni che io ho, diciamo, aperto il canale. All'inizio è stato difficilissimo. Perché all'inizio non si guadagnava su YouTube. Per cui io all'inizio facevo dei video un po' così. E nessuno li guardava. Erano, sì o no, quelle 17 persone che guardavano i miei video. E avevo pochissimi iscritti. Sui 100, in poche parole. Poi, ho conosciuto due ragazzi. Una ragazza e un ragazzo. Dove sponsorizzavano i canali. Allora mi avevano chiesto se potevo sponsorizzare... Cioè, se loro potevano sponsorizzare il mio canale. Io gli ho detto, sì, va bene, sponsorizza il mio canale. E loro hanno sponsorizzato il mio canale. E in poche parole, grazie a questa coppia di ragazzi, quando hanno sponsorizzato il mio canale, piano piano il mio canale stava crescendo. Sia di iscritti che di visualizzazioni. Perché il loro canale aveva almeno più di 10.000 iscritti. Per cui era un canale molto grande. Io, a malapena, avevo 400 iscritti. Per cui, grazie a loro, sono cresciuta. Per crescere su YouTube, in poche parole, devi andare sui canali degli altri, lasciare sempre un commentino sotto nel loro video, essere presente e chiedere di ricambiare. Io piano piano ho fatto così. O sono andata negli altri canali, ho guardato i video, ho lasciato un commentino, e piano piano, like, commenti, eccetera, piano piano crescevo sempre di più. E non è facile, perché all'inizio è sempre difficile. Poi, quando arrivi a mille iscritti e capisci quale video devi fare, secondo me, inizi a crescere di più. Ok, che la domanda era come hai fatto a crescere su YouTube, ma volevo, in poche parole, spiegarvi come ho fatto. Anche se le mie spiegazioni sono sempre lunghe e non corte. Andiamo avanti che è meglio, se no sto video dura troppo. Allora, che shampoo usi? Avevo fatto un video dove usavo uno shampoo che mi aveva dato la mia parrucchiera, in poche parole. L'avevo detto in quel video lì. Adesso non mi ricordo il nome, comunque io uso sia quello che ogni tanto provo altri shampoo che escono nuovi nei supermercati, tipo Garnier, eccetera. Per cui, adesso sto provando tutti gli shampoo, ma diciamo che il mio preferito è quello che mi ha dato la mia parrucchiera. Andiamo avanti. Quando è nata la tua passione per i tuoi conigli e fin ora quanti ne hai avuto in tutto? Allora, la mia passione per i conigli è stata quando sono andata in fiera, me l'avevo già detto anche nel video, che c'era la fiera di Pasqua dove c'era una bancarella che vendevano animali. Appena mi sono avvicinata a questa bancarella ho visto dei conigli, conigli piccolissimi che avevano se non sbaglio un mese, più o meno, un mesetto, adesso non mi ricordo. E appena visto il mio coniglio che è stato il primo che è fiocco, praticamente tutto grigio e bianco, mi sono innamorata. E da lì è scattata una cosa bestiale, a parte che a me piacciono tutti gli animali e ne vado pazza per quel guai. Appena vedo un animale mi innamoro subito, lo voglio, però vabbè. Per cui mi sono innamorata di lui e dopo averlo visto lo volevo a tutti i costi. Alla fine il mio ragazzo me l'ha comprato perché era ovviamente a pagamento, lo vendevano e me l'ha comprato perché ha visto che lo volevo. Avevo 15 anni, se non mi sbaglio. 15-14 anni, adesso non so, più o meno l'età. Comunque poi l'abbiamo portato a casa e da lì continuavo a guardare anche i video su YouTube per vedere se potevo accoppiarli, se è bello avere dei coniglietti. Infatti, quando li ho visti così piccoli che mi sono innamorata di tutti, alla fine ho voluto avere un'altra coniglietta per far sì che la accoppiavo. però dato che è lunga la storia, io non sono tanto brava a raccontare in breve come sempre, vi dico solo che più o meno una via di mezzo, adesso non mi ricordo quanti ne ho avuti ma saranno stati almeno 10, 10 conigli perché poi gli altri mi sono morti ma l'avevo già anche spiegato per cui più o meno 10 conigli ho avuto e adesso ne ho 4 mi sembra che era la domanda sì per cui praticamente adesso ho 4 conigli e in totale ne ho avuti 10 poi che lavoro fai? allora questa è la domanda che appunto mi hanno fatto un bel po' di volte io per il momento sto facendo pulizie cioè vado nelle ville pulisco le ville pulisco le case vacanze pulisco le hotel pulisco case indipendenti appartamenti praticamente tutto io faccio come lavoro questo pulizie in poche parole all'inizio facevo segreteria cioè stavo al computer facevo i documenti lavoravo all'IMS poi dopo vabbè ci sono stati tanti problemi alla fine ho diciamo abbandonato quel lavoro lì e alla fine sono passata alle pulizie ormai sono 4 anni che faccio pulizie non ho diciamo un lavoro fisso perché non mi hanno ancora assunto per cui speriamo che questo lavoro qua in poche parole mi assumono io lo spero perché ormai sono tanti anni che è un continuo che cambio lavoro e niente per cui questo è quello che faccio me l'avete chiesto in tantissimi e appunto faccio pulizie lavoro come pulizie poi che tipo di musica ascolti? ho già risposto prima come fai ad essere così bella e carismatica diciamo che cioè io non mi credo così tanto bella o cioè sì bella sì ma non come diciamo le altre però grazie di questa domanda anche se non so cosa rispondere comunque grazie poi altre 10 domande di seguito allora quanti anni hai? ecco lì cioè volevo precisare questo molte persone mi danno 30 anni perché pensano che io sono dell'86 cioè vuol dire che vedendo il nome del canale fragolino 86 molte persone pensano che il numero di quello che ho messo sul mio canale cioè 86 è la mia età non so perché ma tutte le persone sbagliano io non sono dell'86 sono molto molto più piccola sono giovane e ancora non riesco a capire perché sono fissati con il numero che io ho messo sul canale infatti sto pensando di cambiare il numero perché sinceramente non mi piace che tutte le volte le persone mi danno un'età in più cioè un quanto se mi dai un'età in meno ma un'età in più sembro come se sembro vecchio in poche parole per cui ogni volta mi fanno sempre la stessa domanda io ho 26 anni sono praticamente sono nata nel 95 e ho 26 anni non ho 30 anni e non sono nata nell'86 per cui spero che così è chiaro ma poi vabbè farò un altro video così a me lo spiegherò bene perché ne ricevo così tante di queste domande di quanti anni hai se hai 30 anni eccetera che è una cosa bestiale e sinceramente non è che sia tanto bello comunque vabbè io ho 26 anni sono giovane poi che segno zodiacale sei io sono acquario sono nata a gennaio il 31 gennaio per cui chi mi segue su instagram sa quando ho fatto praticamente il compleanno gli anni eccetera il tuo piatto preferito eh allora diciamo che a me piace tutto solo che forse di più il salmone cioè in senso che amo il sushi per cui io sono pazza del sushi e per il momento il mio piatto preferito è il sushi anche se è una via di mezzo può essere o il sushi o la pizza è difficile scegliere comunque per il momento si è il sushi poi che lavoro fai ho già risposto prima vivi da sola anche questa è sempre una domanda che mi fate sempre no non vivo da sola sono per il momento a casa con i miei genitori e il mio ragazzo per cui vabbè cioè non voglio andare nei dettagli perché sono cose private e diciamo che la mia vita privata resta privata per cui posso posso dirvi solo che sono ancora con i miei appunto perché non ho ancora un lavoro fisso e non mi posso permettere di comprarmi una casa però piano piano sto cercando una casa per diciamo andare via e convivere da sola con il mio ragazzo per cui non vivo da sola siamo in sei persone per farvi capire poi il tuo cantante preferito non ho un cantante preferito diciamo che mi piace tutto per cui non lo so non ho sono tutti bravi sono tutti mi piace tutto per cui no non ce l'ho mi piace tutto poi la tua passione più grande eh bella domanda allora la mia passione più grande è viaggiare per cui mi piace viaggiare poi ti vorresti sposare sì ovviamente quando sono un po' più grande forse sui 30 più o meno 30 anni poi i tuoi gioielli ci fai un video sì avevo pensato di fare un video sui miei gioielli per cui quando lo farò ve lo pubblico il colore preferito allora il mio colore preferito è il nero per cui cioè come vedete non so perché mi piace di più il nero che tutti gli altri colori e non so perché comunque mi piace di più il nero sinceramente quanto sei alta 1,65 per cui sono bassissima non sono alta vuoi sposarti ho già risposto vuoi aver figli beh ovvio mi piace avere un figlio ne voglio tanti comunque sì mi piace avere un figlio hai un sogno a lungo termine oltre a diventare la nuova Ferragni allora vabbè questa è una domanda per diciamo ridere io non mi non mi credo Ferragni ovviamente mi piace diciamo fare quello che faccio diciamo che è una passione per cui mi piace se riesco crescere su youtube sia come visualizzazioni che quello è più importante e anche come scritti per cui la mia passione cioè la mia passione il mio sogno è crescere diventare diciamo più come gli altri in poche parole ovviamente non sono una che fa sponsorizzazioni collaborazioni forse quello no perché non mi piace prendere diciamo in giro le persone dato che molte molte youtuber e influencer prendono diciamo in giro le persone che li seguono per cui sinceramente non mi piace fare quello che fanno loro ma mi piace crescere su youtube perché mi piace davvero fare i video e fare quello che faccio per cui questo più o meno è il mio sogno essere avere un canale molto più grande anche perché dopo otto anni dovrei avere già più di 10.000 iscritti dopo otto anni su youtube comunque lasciamo perdere hai un obiettivo o impegno da fare nel breve periodo allora il mio obiettivo è appunto crescere un bel po' su youtube avere adesso non so se comunque quando arrivate a 100.000 iscritti youtube vi manda un quadretto dove superate i 100.000 iscritti o siete arrivati a 100.000 iscritti per cui il mio obiettivo è avere diciamo quel quadretto di youtube che è bellissimo e lo voglio avere anch'io sarà difficile arrivare a 100.000 iscritti perché io non sono non lo so forse ho qualcosa di diverso che gli altri hanno perché non lo so comunque questo è il mio obiettivo hai mai subito bullismo? sì quando ero piccola praticamente sia le elementari che le medie ho subito bullismo per cui io sono diciamo una ragazza adesso chiusa non sono una ragazza aperta come diciamo le altre persone che parlano tanto eccetera forse di più nei video sembra che sono più diciamo più aperta in realtà no perché se vedo una persona poi sono troppo timida ho paura che succeda qualcosa come mi è successo quando ero piccola e dato che ho subito un bullismo diciamo di sì non è stata una bella infanzia in poche parole comunque cosa ti aspetta oltre ai topi? spero niente cioè spero spero che proprio ovviamente chi ha visto gli altri vlog che sono usciti sa perché mi hanno fatto questa domanda comunque spero basta che non ci sono più altri animali ti piace fare la serie visitors dove mangiano i topi vivi? no proprio no poi e poi vabbè e tante altre domande che ovviamente non non l'ha scritto perché sennò qua non finiamo più poi qual è stato il momento più bello della tua vita? questa è una bella domanda diciamo forse quando ho conosciuto sia la mia migliore amica che il mio ragazzo perché a scuola ho conosciuto tutte e due la mia migliore amica e il mio ragazzo lì sono state diciamo quei giorni belli perché ho conosciuto queste due persone che per me sono importanti anche se la mia migliore amica ormai diciamo non la vedo più non la sento più e allora ci siamo divise per il fatto dei lavori eccetera per cui è stata questa la cosa più più bella della mia vita di incontrare il mio ragazzo che ormai è da tanto che siamo insieme e basta poi altre due domande che sono quelle più importanti che mi avete fatto praticamente allora la prima domanda è cioè la prima domanda la domanda è sei una tipa gelosa? io sì sono gelosissima sia del mio ragazzo sia dei miei amici praticamente di tutto per cui io sono gelosissima proprio gelosa guai a chi tocca quello diciamo che è mio in poche parole perdoneresti un tradimento? no io sono diciamo una che non perdono mai se non è una cosa tanto grave allora ok lascio passare una volta lascio passare quasi due ma la terza poi basta per cui no io non perdono e e diciamo che non sono una cioè sono una ragazza un po' che appena succede qualcosa che a me non piace per me è finita questo poi tu e il tuo ragazzo abitati insieme ai tuoi genitori e poi se si andate a vivere da soli che lavoro fate? un abbraccio allora che lavoro fate? ovviamente non vado a dire che lavoro fa il mio ragazzo perché è una cosa diciamo privata il mio lavoro l'ho già detto invece ho già risposto anche questa che si abito con i miei genitori convivo con il mio ragazzo ovviamente per il momento insieme ai miei genitori se si è andata a vivere da soli sì ovvio per chi mi segue da un po' diciamo che sto cercando casa in vendita e appena troviamo casa appena mi sistemo quel lavoro sì prendiamo una casa diciamo noi e in poche parole andiamo a vivere da soli è normale poi che attività svolgi? io non svolgo nessuna attività perché il lavoro diciamo che a parte che sono pigra sinceramente e poi se lavoro non ho voglia poi di andare in palestra o fare altre cose perché secondo me cioè l'unica cosa che che faccio prendo esco vado a fare le passeggiate eccetera solo questo per cui diciamo che non non faccio palestra o robe o nuoto prima facevo palestra facevo che ne so tennis facevo di tutto poi alla fine ovviamente facendo altre cose non ho più diciamo fatto niente allora queste sono state tutte le domande che mi avete fatto quasi diciamo uguali per cui ho risposto a tutti se volete sapere qualcos'altro fatemelo sapere sotto nei commenti spero che questo video non è durato l'eternità perché io quando parlo non smetto più per cui se volete fare altre domande fatemele qua sotto io poi risponderò in un altro video e niente grazie a quelli che mi hanno fatto le domande spero che sono stata chiara spero che non avete più dubbi sulla mia età specialmente e spero che non mi chiedete più se vivo con i miei se convivo con il mio ragazzo eccetera perché io l'ho detto almeno 300.000 volte sia la mia età sia se sto con i miei genitori o no detto questo noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando vi aspetto sul mio canale e se non siete ancora iscritti iscrivetevi vi aspetto anche su Instagram che lì potete vedere qualcosa di privato ogni tanto che metto su Instagram ogni tanto ma non sempre detto questo ci vediamo al prossimo video ciao ciao